Luigi Bersani, allora c'è una frase di Marsilio, il nuovo governatore dell'Abruzzo dice Schlein, la sinistra, ha fatto calare in massa tutte le vecchie glorie da zio Bersani in giù cosa risponde? ma non è che ha fatto calare, io vado dove mi chiamano questo è il sarcasmo, è l'umorismo che hanno loro ognuno ha l'umorismo che ha che sarcasmo è? che umorismo è? no, ha questo sarcasmo che vuole essere sempre un po' offensivo io vorrei dire al presidente Marsilio caro presidente intanto buon lavoro per la sua regione poi vorrei dirle che io sono stato in Sardegna in Abruzzo, a Foggia, in Alto Adige vado dove posso dar una mano alle mie idee sia che si vinca sia che si perda non me ne frega niente e ci vado liberamente perché veda presidente io ci vado a spese mie e dei miei compagni non come ha fatto lei chiamando 12 ministri a spese nostre quindi buon lavoro spero che si occupi dei problemi che abbiamo incrociato lì a cominciare dalla sanità ci sono due aspetti in questo approccio uno appunto come dice lei il sarcasmo del vincente e ne parliamo dopo un altro è il dato di fatto dall'altra parte cioè lui dice questa è una sinistra che ora non presenta nulla di buono deve ricorrere a chi l'ha guidata in passato alle figure storiche quale lei è al di là dello zio sarcastico però è una figura storica cioè non può portare novità non legge il paese nuovo in questo c'è pure chi dice ma d'altronde il centro-sinistra ha presentato un rettore è roba anni 90, del 2000 noi sappiamo più di voi noi vi spieghiamo ma cose che io giravo giravo con Ellis Line cioè con chi giravo di che cosa ma non mi offendo mica se mi dicono nonno no era zio era zio no c'è anche chi dice nonno adesso poi arriverà non mi offendo io so di essere di un'altra stagione mi vengono riproverate anche delle radici abbiamo sentito l'intemerata del ministro San Giuliano sono comunisti la vuole sentire di nuovo così capiamo di che si parla sentiamo San Giuliano sentiamo questa regione non può tornare indietro non può tornare nella palude del PD non può tornare nelle mani dei comunisti perché io li chiamo nome e cognome sono ancora comunisti radicati in una ideologia nefasta e antiliberale sono stati finanziati, pensate i film con 14, 20 spettatori vado ad ingrassare il solito regista che poi organizza la terrazzata romana della gauche caviar con la R Moscia e che si raccontano fra di loro di essere i migliori i più colti di essere delle super persone che ci guardano dall'alto in basso quest'uomo ha dei complessi secondo me ma allora primo se a me dando il comunista purché specifichino comunista emiliano e italiano io non mi offendo vabbè avrà cambiato idea però lei pensa che serva la dittatura del proletariato mi viene in mente Berlinguer Zangeri a loro ai Missini perché di questo si tratta può venire in mente Almirante Rauti vediamo il contributo che è andato all'Italia questi qui se mi cercano mi trovano su questo su questo piano qui quanto poi ai toni però aspetti una domanda serve lei rivendica la storia di Berlinguer rivendica la storia del suo partito ma non rivendicherà la necessità di una dittatura del proletariato per arrivare alla libertà no 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 ma io sono emiliano sono emiliano e so di parlare con dei Missini so di parlare con dei Missini poi vorrei dire quando uno sente un ministro con quei toni lì e tutti i dodici e la Meloni ma voglio dire il profilo di chi governa può essere questo io l'ho fatto anche io il ministro ma quando governi sono tutti figli tuoi non puoi invece di interpretare un governo interpretare una fazione con questa aggressività ma fa un altro mestiere allora fa la Gipro o mettiti in libertà come sono io io posso fare quel che voglio non so niente non ho niente non ho nessuno governarsi io non li ho mai fatti dei comizi così quando governavo senta lei dice San Giuliano ci sono due aspetti anche qua uno è loro che si propongono così e l'altro la gente qui evidentemente piace le faccio vedere come ha chiuso il comizio in Abruzzo Giorgia Meloni era il periodo in cui le venivano rimproverate le vocine gli atteggiamenti e lei l'ha chiuso così poi dice i Missini senta come chiude succederà di tutto c'ho l'elmetto io ho già messo l'elmetto fino a quando ci sono gli italiani a sostenerci possono fare tutto quello che vogliono ma noi non molleremo mai vittimismo aggressivo è questo qui la chiave è questa qui che non è una chiave da uno che ha responsabilità di governo questa è una mia idea una citazione indiretta no? Boia chi molla era urlo dei Missini di Reggio Calabria però piace ha vinto ma insomma momento momento no? sì abbiamo perso in Abruzzo sì non c'è dubbio non ci piove dopodiché non penseremo mica noi centrosinistro commentatori vari che questo centrodestra questa destra la butti giù con una spallata cioè questa destra è radicata nel profondo di questo paese quindi abbiamo un lavoro duro e lungo se lo leggiamo così rifacciamo un attimo il quadro perché un mese fa avevano due regioni adesso ne hanno una ok? boh anche dove si è perso anche dove si è perso attenzione è successo qualcosa non solo perché partivamo da 20 punti di distacco e siamo arrivati a 7 vincere era una scommessa forse esagerata naturalmente non solo per questo perché ho visto personalmente ho visto a poco a poco come è avvenuto anche in Sardegna anche lì si è creato una situazione un popolo diciamo un popolo dell'alternativa che comincia a comprendere che i partiti sono degli affluenti e il fiume è l'alternativa comincia a mescolarsi questa cosa è un inizio ma è preziosissimo e credo quindi che noi abbiamo è come succede come succede nel calcio no? tu puoi perdere una partita anche importante ma ti accorgi se la squadra c'è se il gioco funziona te ne accorgi allora io penso che dobbiamo insistere così come abbiamo fatto in Sardegna e in Abruzzo però quello che probabilmente diciamo vi sfugge è che mentre il centrodestra sono 30 anni che ragiona così come dice lei stanno sempre insieme una volta lo guida uno una volta lo guida l'altro sono tutti quelli che ci sono ora sono i ministri Berlusconi cioè hanno una tenuta grossa di squadra e di elettorato voi se si perde l'Abruzzo si inizia a discutere beh insomma allora forse serve il proporzionale l'anno nel caso inizia a dire beh ma Conte così è secondo la Schlein la Schlein prima era seconda a Conte allora funzionava cosa non avete voi che è al centrodestra? insomma intanto la favola del centrodestra che non si è mai diviso non si divide cioè cerchiamo di smentirla perché ha cominciato dal 96 quando persero dividendosi e via via fino all'ultimi governi no? no ma dopo si dividono ma prima no voi dividete prima va bene detto questo detto questo loro è vero cioè la destra siamo diversi in questo cioè la destra può avere un vice presidente del consiglio che sta con Navalny e l'altro vice presidente del consiglio che sta con Putin e vanno avanti tranquilli e ciao noi noi spacchiamo i capelli in quattro perché siamo più intenzionali al fondo c'è qualcosa di nobile in questa differenza cioè la destra sostanzialmente gli va bene il mondo così com'è la sinistra c'ha una pretesa un po' otopedica cioè vorrebbe cambiarlo un po' raddrizzarlo un po' tutto lì ecco è vero però mi faccio è vero però devo riconoscerlo lo riconosco che abbiamo un problema no? anzi due ne abbiamo uno che noi dobbiamo ricomporre una cosa che è partita malamente i 5 stelle sono nati in polemica col PD col Vaffa quando a me davano del gargamella io dicevo ma non ha neanche tutti i totti dicevo a proposito perché Grillo è più spiritoso di Marsiglio non c'è dubbio è stato anche duro allora ecco e quindi e il PD ha considerato per anni i 5 stelle il nemico principale questo è fino al 2018 e a questo punto diciamo c'è questa difficoltà in più si dimentica un terzo o due terzi Calenda e Renzi arrivo in più e io l'ho sempre anche questo detto a noi per quadrare diciamo questa alternativa manca ancora abbiamo bisogno di un filone liberale non mi piace parlarci non c'è questione di centro è questione di una cultura liberale propriamente liberale e qui Calenda pare non voglia ora si confronterà con Marnaccio e quindi dobbiamo mettersi alla ricerca e interpretare un po' sta cosa detto questo ma chiami Renzi se accordi con Renzi faccia una telefonata ma no cosa vuole non basta l'agilità ci vuole anche un profilo politico però lo sa cosa farebbe uno di destra al posto suo chiamerebbe Renzi dai ma che ce ne frega di quello che è successo come ci organizziamo ma io non è che ho delle preclusioni però sto dando dei giudizi credo obiettivi sa cosa hanno quelli di destra forte nei confronti di quelli di sinistra che dividono il mondo come vogliono loro e poi molto spesso il centro-sinistra è costretto a sistemarsi di qua e di là le faccio vedere l'aggressività la determinazione di Giorgia Meloni guardate noi abbiamo portato al governo l'Italia vera che non è quella descritta dai giornaloni o nei salotti tv per questo noi siamo un nemico da battere con qualsiasi mezzo perché siamo uno specchio siamo uno specchio per la loro meschinità per combatterci si sono ridotti a tifare contro l'Italia e invece l'Italia con noi vince Presidente teme che il caso Pozzolo possa abbattersi sul governo non parla non parla ma gli pare il nostro servizio mi dàte pazienza dai 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 quale confezionato nessuno ha fatto nessun servizio dovreste sapere allora le rinnovo l'indito grazie io le rinnovo la risposta no sinistra giornalisti tutti con un'intenzione malevola non nei confronti loro ma addirittura del paese sì ma io sono rasserenato da queste cose perché sono sicuro sono sicuro che naturalmente se non siamo leggiamo nell'area del centro-sinistra proprio dei deficienti questo modo non può non può durare loro hanno sempre un argomento abbiamo il consenso abbiamo vinto teniamoci chi vince ha sempre ragione ma non sempre chi perde ha torto si vede dopo un po' si vede dopo un po' e se vanno avanti così io dico che lo vediamo prima di quanto si pensi io credo che correggerà proverà a correggere no ma l'atteggiamento sì cioè dice ora inizia a fare ogni tanto se è sicura di vincere fa la statista perché perché sono lì per una rivincita cioè il revancismo vuol dire questo allora uno si chiede ma rivincita perbacco facevi il ministro già con Berlusconi 15 anni fa quell'altro San Giuliano dirigevi un telegiornale che erano costretti a nascondersi ora rivendicano le origini è la rivincita è più antica qual è? la rivincita è più antica è la radice questa radice che abbiamo visto nel dopoguerra di una destra che non è riuscita a risolvere il problema di fondo e quindi come dice Ovidio rispetto al fascismo né con te né senza di te posso vivere non l'ha risolto che poesia non l'ha risolto e quindi la rivincita è noi senza risolverlo comanderemo questa è la rivincita però abbiamo detto che sa dividere l'Italia come la sapeva dividere Silvio Berlusconi è una qualità anche di quella parte politica dare delle squadre nette poi però ci sono dei fatti che li aiutano guardi il dossieraggio il caso del dossieraggio come ne parla dal palco Giorgia Meloni inchiesta Perugia secondo la quale ci sono funzionari dello Stato Italiano che fanno dossieraggi ad personam per passare le notizie ad alcuni giornali segnatamente al giornale di De Benedetti vogliamo sapere chi sono i mandanti perché questi sono metodi da regime il governo che rivendica metodi di regime da parte dell'opposizione va beh insomma è sempre il solito vittimismo è sempre la solita roba è chiaro che è un problema serio quando c'hai i 30.000 file che sono estratti abusivamente da banche dati dell'antimafio o altre banche dati non sarà un problema è un problema sì ecco dopodiché se dentro a quell'elenco che comincia a venire fuori eccetera c'è anche il buon Federico Fornaro e c'è la compagna di Giuseppe va beh un po' isolato però c'è stata la miglia di Conte e c'è la compagna di Giuseppe Conte eccetera però vediamo i nomi sono quasi tutti di destra sono pure molto importanti Crosetto Lollobrigida Urso Del Mastro Salvini Balditara Freni c'è qualcosa che non torna in questo caso? Ma che ne so io so solo che ci sono due magistrati che è Cantone Melillo che sono perfettamente in grado di andare a fondo a questa questione e vedere se c'è questo maneggio per ragione di denaro se c'è dell'ossiraggio se c'è della curiosità Le chiudo con due facce di due medaglie che dovrebbero essere diverse il materiale e l'immaginario il materiale Giorgia Meloni e l'economia guarda i risultati record di occupazione record di numero di occupati record di contratti stabili tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 14 anni come l'abbiamo fatto? Abbiamo smesso di pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava L'economia va bene quello lei dice e quello molti dati testimoniano Guardi adesso se abbiamo tempo posso Beh lei rimane con noi e poi magari entrerà nel particolare questa cosa sull'occupazione queste cose non tengono conto di una serie di cose per esempio l'andamento demografico per esempio del fatto che hai trattenuto della gente che sarebbe andata in pensione per esempio del fatto che in quei famosi contratti stabili anche il part time può essere fatto a tempo indeterminato anche il part time involontario Carameloni eccetera dopodiché se noi con questi occupati qui che pure i numeri non sono arretrati questo sicuramente abbiamo un tasso di produttività che è la metà di quello europeo avrà qualcosa a che vedere col fatto che li paghi poco perché l'anno scorso lei dice salari più alti i salari sono aumentati dell'1,8 contro un'inflazione al 5,7 e finché li paghi poco non hai interesse a investire a creare produttività questo è il punto se smettiamo di pagarli e lavoriamo tutti piena occupazione ma il problema è rimasto e allora l'immaginario festa della donna giornata della donna per essere più corretti di Rai News la festeggia con una poesia che usa queste immagini e questo linguaggio Dio mi fece donna e mi ha scavato dentro mi ha reso fabbrica di esseri umani ha intessuto delicatamente i miei nervi e bilanciato con cura il numero dei miei ormoni ha composto il mio sangue e lo ha iniettato in me perché irrigasse tutto il mio corpo nacquero così le idee i sogni l'istinto tutto quel che ha creato suavemente a colpi di mantice e di trapano d'amore per cui mi alzo orgogliosa tutte le mattine e benedico il mio sesso la faccia di Leoglotto era curioso vedere anche Elisabetta Piccolotti cosa sta cambiando nel nostro linguaggio nel nostro modo di pensare mentre governa una destra molto compatta molto netta molto radicale anche sul fronte valoriale ma io credo che bisogna risvegliare i valori su questo non c'è dubbio sono sono convinto sono sono convinto che sia possibile assolutamente l'Italia politicamente ha una mela spaccata in due non diciamo che la destra adesso sembra che debordi perché si sta prendendo tutto ma è la metà di questo paese qui l'altra metà deve darsi una mossa è poco da fare e la politica deve dare il là però questa cosa è campo è il campo largo eccetera ma qui io dico il campo si chiama il campo dell'alternativa e facciamolo girare per il paese questi modellini qui che si stanno creando per le elezioni facciamoli girare nel paese sollecitando però dovrete trovarlo uno che guidano loro girano dietro a Giorgia Meloni prima giravano dietro a Matteo Salvini prima giravano dietro a Silvio Berlusconi ma voi uno che vi guida non lo trovate sceglietelo anche voi non che vi viene a prendere ma uno io penso che saranno le cose e la gente a dirci come risolvere quando sarà il momento del tema della leadership così come quello del nome campo giusto campo largo adesso lo chiamiamo campo per l'alternativa facciamo nel paese comitati per l'alternativa che sollecitino lo spirito civico sociale valoriale di tanta gente quando saremo sotto gli daremo un nome meno campestre che problema c'è e troveremo anche chi guida la battaglia insomma il prossimo deve essere capace di governare perché avremo dei disastri Matteo Salvini che fa? potete sperare in lui la rega ne ha fatti cadere di governi in passato io non ci spero non spero in questo perché l'istinto l'istinto a star lì quando lui faceva quei numeri lì tipo col conte 1 è perché pensava che con la forza che aveva poteva comunque dirigere il traffico adesso credo che quest'idea non li venga quindi io penso che il centro-sinistra deve contare sulle sue forze perché ha un dovere non un un dovere quello di offrire al paese un'alternativa a questa situazione bisogna sentire acutamente questo dovere e non perdersi in chiacchiere e in stupidaggi Lady Conte si fida Lady Conte si fida io mi fido mi fido di tutti mi fido di Conte mi fido di tutti quelli che il problema è che bisogna dire con più nettezza quel che si vuole e quel che si vuole fare e dare a queste compagine un elemento stabile che possa girare nel paese e sollecitare le energie ma ripeto tutto parte dal volerlo e il volerlo parte dalla comprensione che si fa quel che si deve e succeda quel che può ok come diceva Nenni e Zaccagnini qui noi dobbiamo offrire al paese un'alternativa se no quest'Italia finisce contro il muro Pierluigi Berzani resti con noi un pezzo di confronto anche con Francesco Storace Capissimo